Ciao, bentornati su Parlare Digitale. Oggi vi parlo di uno dei libri più utili che io abbia letto nel 2020, cioè The Sales Acceleration Formula di Mark Robergy. Mi perdonerà Mark se non so pronunciare il suo nome, ma chi è Mark? Mark è stato il primo vicepresidente di Sales ad AppSpot, la prima persona a occuparsi di Sales ad AppSpot, e domanda successiva, che cos'è AppSpot? Per chi non lo sapesse, AppSpot è un sistema di gestione clienti, un CRM software, che è stata una delle aziende più interessanti, una delle startup più importanti e più di successo in America nell'ultimo decennio. Ha veramente rivoluzionato il mercato, uno dei suoi competitor è Salesforce, quindi sicuramente non un'azienda facile da fronteggiare, ma stanno avendo ottimi risultati, specie per le piccole e medie aziende, e soprattutto hanno rivoluzionato tanti concetti legati alla vendita di prodotti, ma anche e soprattutto legati al marketing. E tra l'altro, se non sbaglio, c'è un libro del vicepresidente invece di marketing di AppSpot, Mike Volpe, se non sbaglio, che parla del marketing ad AppSpot, ma insomma, oggi parliamo della parte di Sales, della parte di vendita, e per chi è questo libro? Questo libro è per chiunque abbia a che fare, nella sua vita lavorativa, con un dipartimento di vendita, sia come manager che come invece magari rappresentante del team di marketing, che però si deve relazionare con Sales, e in particolare Mark, il grandissimo Mark, è un ingegnere che aveva zero esperienza in Sales, prima di entrare ad AppSpot, e quindi lui ci porta dalla A alla Z, insieme a lui, nel suo percorso di creazione di un team di vendita, che vada dagli zero ai centomila milioni, eh sì, centomila milioni, ai centomilioni di revenue all'anno, quindi sicuramente una storia di successo, cercando di ingegnerizzare il tutto, quindi appunto da bravo ingegnere ha creato tanti schemi e tante formule, come detto nel video, per cercare di replicare, di scalare il successo, e devo dire che secondo me ci è riuscito. Questo è uno dei libri con i consigli più attuabili che io abbia trovato, e ci sono tantissime chicche, tantissimi ragionamenti, che sono utili e facili da applicare, da tagliare, rimodellare ed incollare, e soprattutto mi è piaciuta molto la struttura del libro. Lui identifica 4-5 sezioni, la prima è quella dedicata all'assunzione del personale di vendita, quindi Sales Hiring, la seconda è quella dedicata alla formazione del personale di vendita, la terza è quella dedicata alla gestione, la quarta è quella dedicata alla demand generation, quindi come creare richiesta per il prodotto, in cui si parla anche tanto di marketing, e la quinta è quella legata alla parte tecnologica, ai sistemi da utilizzare. Lui per ognuna di queste parti ci dà delle formule che lui ha applicato, delle strategie, delle tattiche, dei consigli, e ci racconta anche tante storie di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato ad HubSpot, che oltre ad essere molto utili sono degli aneddoti molto simpatici, quindi, insomma, se siete un po' dei nerd come me a cui piacciono queste cose, fatevi controllare prima di tutto. Secondo, comprate il libro. Terzo, ne gioverete tanto. Insomma, anche al di fuori del mondo lavorativo sarete interessati a quello che lui ha da raccontare, perché HubSpot è sicuramente un case study molto interessante da tenere a mente e da osservare. Quindi, faccio qualche esempio più dettagliato su cosa potreste trovare in questo libro, e poi vi ricordo che a me piace farvi un video introduttivo da cappello di un libro, ma poi fare dei video più specifici su ognuna delle parti, magari, principali del libro, proprio per darvi consigli ancora più attuabili e per ingolosirvi ancora di più a comprare il libro se non dovesse bastare questo video, anche se spero basti. Per esempio, lui nella parte dedicata all'assunzione delle persone, ci dà un template utilissimo con quello che lui chiama scorecard. Scorecard è tipo una tabella, fondamentalmente, in cui noi possiamo facilmente andare a valutare l'abilità del candidato nel team di vendita che abbiamo davanti, secondo, ovviamente, la nostra percezione, e lui appunto ci dà varie voci che utilizzava HubSpot, che sono intelligenza, adattabilità, coachability, quindi quanto è facile insegnare a questa persona, tanti altri aspetti, sono una lista, una quindicina, 12-15, ci dice esattamente il perché lui ha messo ognuna di queste voci all'interno, chiaramente se noi vendiamo un prodotto diverso da HubSpot possiamo anche togliere o aggiungere altre voci, per esempio un'altra voce è conoscenza dell'industria, e poi ci dice anche il peso che ognuna di queste voci ha per HubSpot quando si sta valutando una persona. Quindi fondamentalmente tu hai una tabella con intelligenza, abilità di imparare le cose nuove, adattabilità, conoscenza del settore, e poi hai dei valori da 1 a 10 che dettano il peso che lui dà a ognuna di queste voci, 2, 3, 4, intelligenza vale 7, adattabilità vale 3, conoscenza dell'industria vale 2, e durante la chiamata con il candidato puoi riempire questa tabella con dei voti, pensando ok, intelligenza vale 7, questo candidato secondo me ha un voto di intelligenza che da 1 a 10 è 4, mentre invece conoscenza del mercato da 1 a 10 è 8. E quindi poi fai la somma pesata in base ai valori di quanto vale per te, per ognuna di queste voci, e hai un modo oggettivo di valutare i candidati nel tuo processo di selezione. Questa può sembrare un po' una semplificazione del processo di assunzione, ed in parte lo è. E sicuramente è difficile valutare in maniera corretta anche i candidati e dare i voti giusti. Però la cosa interessante, e l'aspetto ingegneristico della carriera di Mark si vede qui, è che lui poi, dopo sei mesi, dopo un anno, andava spesso a ricontrollare i voti che aveva dato alle persone, andava a vedere se effettivamente le persone che sembravano più promettenti in base ai voti che lui aveva messo erano quelle che performavano meglio, oppure no, e anche andando a fare un po' di intrecci matematici, riusciva a capire quale skill magari era sottovalutata a livello di importanza nel pesaggio dei voti e delle categorie, e quale skill invece magari era sopravvalutata. Quindi facendo un'analisi di correlazione tra questi dati, quanto hanno performato bene le persone, e come le avevo valutate all'inizio, riesci a migliorare sempre di più questo processo, a imparare sempre di più, e a creare un processo oggettivo di assunzione, scalabile, quindi riesci anche a spiegare ai tuoi colleghi come seguire questo processo in maniera semplice, e devo dire che è un sistema veramente, veramente facile da copiare, incollare, adattare alla tua azienda, e questo è uno dei valori più importanti di questo libro, secondo me. Questo tipo di approccio esiste in tutte le parti del libro, ce ne sono altri esempi anche all'interno della sezione dedicata all'assunzione stessa, chiaramente non ve li faccio tutti adesso ed ora, se volete saperne di più potete iscrivervi al canale perché sicuramente farò dei video più in dettaglio su questo tema, ma soprattutto potete trovare il libro in descrizione e comprarlo su Amazon con i soliti link di affiliazione. Io, appunto, per concludere vi dico che questo è un libro che vi consiglio soprattutto se non avete appunto esperienza diretta come manager in sales, ma ci lavorate tutti i giorni oppure se siete in contatto con venditori magari dovete aiutarli a creare materiale di vendita. Questo libro vi permette di entrare ancora di più nel loro mondo, di avere idee su come migliorare il processo per loro anche se non ne fate parte, di discutere magari con gli altri manager, capire come migliorare i processi. Quindi questo è il caso migliore, secondo me, per cui comprare questo libro. Anche se siete dei sales manager che hanno esperienza, comunque potete trovare delle belle chicche qui dentro, tanti consigli che magari non sono banali e che probabilmente se non siete un'azienda in ambito software non sono standard nella vostra industria ma che potrebbero diventare uno standard presto e quindi veramente mi viene difficile sconsigliare l'acquisto di questo libro a meno che non siate appunto invece grandi esperti della vendita per prodotti di tipo SaaS software che sono simili ad Upswot in quel caso forse gli insegnamenti di questo libro già li conoscete perché poi hanno fatto scuola quindi chiaramente in quel caso potrebbe non tornarvi utile. Se non siete ancora sicuri di comprare il libro comunque iscrivetevi al canale attivate le campanelle alle solite cose da youtuber perché vedrete più contenuti su quello che c'è qui dentro anche su questo canale chiaramente proverò ad aggiungere anche risorse da altrove c'è un altro libro molto interessante dedicato a sales management chiamato sales management simplified 2.0 che è un altro libro che si colloca su un'onda simile quindi se sei un sales manager alla tua prima esperienza lì hai tante informazioni tanti tanti playbook su cosa fare quindi mischerò un po' di informazioni so che questo canale è principalmente dedicato a marketing imprenditoria ma penso che sales la parte di vendita sia molto spesso sottovalutata in tante aziende ma è un motore incredibile che ti permette di crescere se lo fai bene e per la giusta azienda veramente in maniera efficace è un un tipo di business un po' più rischioso perché richiede tanti capitali all'inizio devi investire nelle persone di vendita e se assumi la persona sbagliata vai a pagare tanto questo errore non è la stessa cosa di spendere 100 euro 200 euro 300 euro su facebook o insomma anche mille sono costi molto più alti però può dare grandi risultati e molto spesso specie persone giovani ne stanno lontani perché hanno questa concezione di sales come il venditore porta a porta che ti vende il folletto il venditore che vende le poste poste gialle la pagine gialle invece c'è molto molto di più quindi vi consiglio di prendere questo libro anche se magari non siete super interessati al tema perché potrebbe aprirvi un mondo noi ci vediamo come al solito al prossimo video ciao 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 ciao